Siamo alla sede della protezione civile di Kishinau, Moldavia. Ci sono quattro automanzi, dei vigili del fuoco, li vedete che sono appena arrivati dall'Italia per essere donati alla Moldavia. È un'avanguardia di una cinquantina di mezzi che poi arriveranno anche nei prossimi mesi, anche per l'Ucraina. Avete fatto 1600 chilometri da Trieste? Sì, abbiamo iniziato il giorno prima, in realtà, dalle diverse regioni da cui provengono i mezzi. Ci siamo incontrati tutti a Trieste e da lì all'alba di domenica mattina siamo partiti per essere qui ieri sera. Vigili del fuoco che arrivano da vari comandi, vedo Torino, Monza, Milano, Alessandria, poi c'è la Liguria, Genova, Roma, Firenze. E' una squadra grande messa tutti insieme, ambasciatore Lorenzo Tomassoni. L'Italia dona, continua a donare. In questo caso in particolare bisogna anche aiutare, sono mezzi che vanno a rimpiazzare, mezzi dei vigili del fuoco, Moldavi, che erano stati dati all'Ucraina. Quindi ecco il significato di questo dono. Certamente ci si aiuta a vicenda. L'Italia è impegnata in prima linea nella Sister, la Moldova, a gestire lo straordinario flussi di rifugiati che provengono dall'Ucraina. Abbiamo dato già 20 tonnellate di aiuti umanitari del Ministero degli Affari Esteri in occasione della visita del Ministro Di Maio. Un campo rifugiati da 500 tende offerto dalla protezione civile. 10 milioni di finanziamenti all'UNHCR per la gestione sempre della migrazione, le categorie protette, i soggetti più deboli in particolare. E oggi 4 autopompe e 4 autobotte venute da lontano. Siamo molto soddisfatti dei risultati della collaborazione bilaterale in questo campo. E siamo molto molto vicini a tutto il popolo moldavo, oltre che al governo. Devo rivolgere veramente i miei relegramenti al popolo moldavo per come sta affrontando con coraggio e determinazione la situazione, ricevendo le persone anche nelle proprie case. Grazie, grazie ambasciatore da Kicinau. Moldavia a voi.